Rete, Rete, chi l'ha fatto? Ramundi, Ramundi, Alessandro, ha segnato la sesta rete fino a questo momento. L'Arnè è generoso. L'Arnè è stato generoso. L'Arnè è 4 gol, uno Ramundi e un altro chi l'ha? Ah Enrico, Enrico Caporale. Risultato fino a questo momento, risultato parziale, Virtus Castelfrentano 6, Portona Calcio 0.